Buongiorno, colazione time! Oggi coccole, coccole e coccole! Caffè, cappuccino, perché oggi Ricky è a casa e quindi ogni tanto, già che lavora sempre quando è di riposo, ogni tanto ci concediamo qualche cosa di carino e niente faccio colazione perché sto morendo di fame, è più un pranzo troppo che una colazione perché sono le 11 e mezza più o meno, vabbè ma niente pranzeremo più tardi. Ce la farò a sto giro? Ce la farò? Sì, ce l'ho fatta! Non mi sono neanche ammazzata! Aspetta! Molto che si blocca! Proviamo l'ascensore trasparente! Oh mio Dio! Che spinta che ha avuto! Perca miseria! Dovevi fare tutti? Che nausea, no grazie! Uh, fai pure! Allora facciamo finta di riprendere Ricky e invece vi faccio vedere l'uomo col cappellino! Allora, in realtà noi dobbiamo sfruttare un buono che ci hanno regalato al McDonald's per praticamente entriamo in due al cinema e paga solo uno! Inderginate chi è che paga? Lui! E quindi vediamo un attimino se c'è qualche film d'azione di quelli da grandi che ci può interessare! Allora, siamo alla sala giochi! Noi dirito che quando veniamo qua, quando veniamo qua all'ingotto facciamo sempre una cavatina, scusate le luci, al qua perché... mamma mia! Sono inquietante! Sono tutte blu! Vai, amore! Forte che puoi! Minchia! Sono scoppato! Scusate! Oh! Cioè, se ne tiri una così a qualcuno ammazzi davvero! Sì, amore! Sì, amore! Sì, amore! Dai, amore, concentrati, su! Pensa a qualcosa che ti fa incazzare da morire! Oddio! Oddio! Vado vedi! Ehi, che vuoi da me? Eh, siamo aumentati! Visto che se tu cazzi funziona! Guarda che roba! Buonissimo affermare! No, 410! Però il totale conta! Amore! Vai, amore! No, ma proprio non ti diamo! Vai, non ti arrendere! No, ma proprio non ti arrendere! Non mi arrendere! No! No, ma proprio non ti arrendere! No! Non ti esistete. Vai, bimba! Ok! A cura! Mi servi sana! Grande amore! E vai, che hai trovato il tuo ritmo! Olè Olè amore Guardate un po' Vai 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 Vabbè dai Olè Quanti? 466 25 sono i tuoi Ah ma si può continuare Ah no 0 2 4 Ah se lo c'entra il primo colpo Ti dà 2 punti è vero Vai amore Ma questa è sfida Dai Vabbè No che sfida No Non è sul pardo Olè dai Ah no non te li calcola più Peccato 18 vinto io Vinto io Siamo da Toys E già Mi sono innamorata di questa palla Di questa palla con l'acquetta Guardate che carina Ovviamente Ho mirato la rosa Ma non ci sono certezze ragazze Nessuna certezza Qua si nuota E arrivo io Tutto bene amore? E lui? Qua qua Ma levati Qua 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 Guarda Dai apri Basta Dai apri e basta E vorrei evitare di sfondare tutto Eh no ma perché conoscendolo quando l'ho vista Io non ho un po' idea Cosa può essere Cosa può essere? Vedo già dei capelli veri Esatto Ti piace? No Non è vero Ma dalla un po' di soddisfazione Questo è per il tuo spirito di questi tempi Costava poco e te l'ho preso Un bel dito medio e via Applausi Anzi doppio oltretutto Giustissimo Grazie amore Non dovevi Ma non dovevi Dovevi? A me non è una cosa che ti serve Siamo usciti Bello Siamo andati a vedere questo qua Un po' lunghino Però ci è piaciuto Molto molto bello D'effetto Ha meritato Ha meritato Ha meritato Ve lo consigliamo Eccoci tornati Lo so non ho più vloggato Ma in metropolitana Stavo morendo di caldo Mancava veramente l'aria Quindi non ce l'ho fatta Perdonatemi Vi faccio vedere Perché poi siamo andati In un negozetto Che è aperto da poco E mi trovo molto bene Soprattutto la mia migliore amica Che me l'ha consigliato Un negozio Molto carino Giapponese Che ha un sacco di cose Giapponesi da mangiare E visto che stasera Vogliamo fare la seratina giapponese Ho preso delle coline Allora abbiamo preso I noodle Alla salsa tagliati Da fare in padella Ne abbiamo presi tre Tre tutti uguali Così facciamo una porzione Più sostanziosa Poi ho preso I panini Aspettate Il pane cinese Diciamo Sono questi qui Al latte Ci si può anche mettere Qualcosa in mezzo La marmellata Il cioccolato Sono a me piacciono Sono da fare Tipo al vapore Sempre in una casseruola Poi ho preso queste A Federico Perché me le aveva chieste Perché sto facendo La collezione Delle medaglie Perché dentro Danno la medaglietta Di un dinosauro Quindi gliel'ho preso E poi ho preso I ravioli Buonissimi Questi qua E li facciamo appunto Stasera Sempre per la Seratina Giappo E poi vabbè Qua Ci sono le maglie Che ho Che ho voluto Regalare a Ricky Tra l'altro Era nostra offerta Una delle due L'ho pagata Due euro e 99 Ed è veramente Molto carina L'ho presa Perché lui mi ha regalato Questa splendida giornata Di cinema E di E di McDonald's Insomma ci siamo divertiti Un po' oggi Poi ho preso Questo quaderno Con i quadrettoni Perché me ne mancava uno Come avevo detto Nel video Back to school Per la scuola di Federico Quindi sono passata In cartoleria E ne ho preso Ancora uno Mettiamolo qua Prima che si bagna Poi vabbè Qua ci sono appunto Le maglie E basta Poi Cos'altro abbiamo preso Ah ho preso Le cialde Decaffeinate Perché Io non posso bere Caffè La caffeina Eviterei Abbiamo trovato Un negozietto Che aveva Appunto Le compatibili Perché Quelle originali Della dolce burso Sono veramente carissime Quindi ho preso Queste qui Poi vabbè Poi Ricky Si è preso Una cosina Per domani A lavoro In un negozietto Che ha tutte cose Tipiche siciliane E Basta Direi che Questo è tutto Quello che abbiamo preso Ora mi faccio Una doccia Perché ragazzi Sono Seriamente distrutta Faceva caldissimo E oltre tutto In metropolitana Non so se non funzionasse L'impianto Di Di aria Ma C'era veramente Da morire Mi devo anche lavare i capelli Quindi quasi quasi Non so se lavarli adesso O domattina Adesso vediamo Sono distrutta E accaldatissima Quindi ho bisogno Di una doccia E niente Ci vediamo dopo Che vi facciamo poi vedere Le cosine cucinate E poi vi salutiamo A dopo Allora Ci siamo scordati Completamente Di farvi vedere I noodle Ma ci siamo già Fatti Ed erano buonissimi Qua Si stanno cucinando I raviolini Ai gamberi E qui ho messo A vapore I panini Il pane cinese Che sarebbero Panini dolci Al latte Per dopo Che ci va un po' E direi che Noi vi salutiamo Perché poi Ceniamo E crolliamo Vi mandiamo un bacione E al prossimo video Ciao 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 Grazie a tutti.